Allora, facciamo le presentazioni, che dite? Oh, ehi A però, non fate così, gulacchi bemmuti. E' un attimo, ho attivato il computer, bello tranquillo, già mi fate che a casa 8. Allora, madonna, eh, che nozzo, se ti ricordi, poi sai cosa vorranno farsi dopo, con quello. Ma io comunque sono sceso, non ho sceso. Ma che paura! Oh, c'è un mostro! Oh, porca puttana! Che è successo, trolino, ti sei caccato sotto? Mi stai spartto! Ti entro nella porta dei 2 PSP, dove avvolverai i consumitori. No, non mi piace, non mi piace questa roba. Oh, ma porca puttana! Io sono quello che si nasconde perché... Oh, mynob! Fuio 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 fuio! Ecco dove eravate pure vate! Sai io pure! Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, 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 a parte i passi... Oh, mynob! No, no, dai, che sfigo! E dai però Oh merda, oh merda C'è un maniaco sessuale Ah La prima penetrazione rettale di trave Oddio, c'è il ciccione La sorta che ho ucciso qualcuno Oh Cristo Dai però Oddio, 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 oddio No Oh, 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 oh Ah, 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 ah Fuia Ma andai alla morte Ragazzi questi gazzi quando gode Dove cazzo? È chiuso, è chiuso È chiuso, dove si va? Dove cazzo? Ah eccolo, eccolo, eccolo Ah, vai là, ah, va chiuso Mi seguo anche qua No, guarda, no No, 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 l'ho preso Ah, ahia Che schifo Non far così cazzo Mi farsi Ma ho sentito un rumore che non volevo sentire Mi sei ritrovato giù nelle foglie Ma perché è tutto buio? Eccolo il rumore che non volevo sentire È proprio lui Oh, oh, mi ha preso Oh, merda Ah, vai Vai Corri, scappa Corri Corri, nasconditi No, l'ho preso Cazzo No, no, no Salta No Fa'n culo Salta Evita il cicci Lui Hết Ah No, 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 no No, no, no Ci va fa'n culo Bele, bene, bene, bene Lo sento che mi seguo Cazzo Cazzo Ma lo sentivo di fianco, invece Non c'era ehi a ma che vuole questo lasciami stare lasciami stare oh oh no vai via tu posto quando vedi i buchi Sì, non capisce bene. Ok. Sono dentro l'armadietta, non me muovo. Allora avanziamo. No, no. Che era il suo remore? No, aspetta. No, no. Fermati, fermati. Fermati, fermati. Mi prego. No, mi ha visto. Mi devo fermare io. Ti prego, non uccidermi. Che bastardo sto grassone. Uuuuh. Iiii. Mi sa che mi ha preso. Oh mio Dio, non mi ha preso, non so come non mi ha preso. Oh mio Dio, 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 mio Dio. Passa in mezzo, passa in mezzo, passa in mezzo. Ho preso. Benvenuti su Outlast. Madonna Santa. Questa è la punizione per chi non aspetta gli amici. Fa da cavia. Che ti ha fatto paura, tra lì? No, non me l'aspetta proprio in va fuori, affanculo. E fa pure, va fuori. Allora ci sono due porte, una a destra e una a sinistra. Io andavo con la destra. Voglio, aprite tutte e due le porte. Oh che bello! Questo vuole accarezzare, vieni qua. Dammi un bacino, dammi un bacino! Dammi un bacino! Te lo taglio col braccio. La stessa cosa dell'acqua di prima che mi ha fatto cagare in mano. Dicevo che ha fatto paura anche a me questa cosa. No, 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 salta, 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 vai! Corri, corri! Aia! Che botte che mi ha dato! Ah, 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 ah! Porco! Oh! Porco! M'ha fatto cadare sotto! Non lo sapevo che questo qua mi rincorreva, oh stronzo! L'ho messo in un angolino, mi ha fatto una mazzata, ma... Allora, a me mi ha dato il nuovo obiettivo, raggiungi il piano terra dell'ala maschile. Io sono arrivato al guardaroba maschile. Credi? Oh! No, 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 no. Aia, ciccio bastardo! Voglio, ma c'è un bastardo qua che... C'è uno col manganello! Eh, infatti! Eh, quello, quello lì mi ha fatto, mi ha fatto cagare in mano, perché io ero al buio in un angolino e all'improvviso mi ha dato una mazzata che mi ha fatto girare. Porca puttana, che spavento! Eh, oh, vabbè, io ho trovato la strada così, per puro culo. Sono arrivato in un altro ciclo maestruoso. Voglio, ma perché da tutti quanti alla maschile io Fogni? Scusate, che cazzo? Ma voi avete attraversato pure il pezzo quello là? Quello, la fessura? Io sì, quando la fessura, sali le scale e ti dai un nuovo obiettivo. Ah, ok, ok, allora mi devo fermare là pure io, non avevo capito. Ah, allora devo sentire... Ma che cazzo? No, ragazzi, ma... Ragazzi! Oddio, ragazzi! È successa una cosa bellissima. Mi si è buggato il personaggio, si è visto il mio personaggio. Non ha la testa il nostro personaggio. Grazie. L'ha persa. No, ragazzi... Sei un manicomio. Sul serio, è proprio... Si vedeva proprio la carne... Cioè, si vedeva l'osso del collo che spuntava e tutto. Mi si è buggato il personaggio, praticamente... Se io andavo avanti si vedeva il corpo senza testa. C'era la carne, l'osso, tutto quanto, dai! Fantastico. Questo video giunge al termine. Un saluto da... Un saluto da... Un saluto da... Gigi. Da Kinnazzo! Da Kinnazzo! Quella cazzo di Kinnazzo! Ma il bello poi è che... Vabbè, Danilo è già fuori dal gioco. Kinnazzo! Kinnazzo! Sono già su Dragon Ball a giocare! Che merda, che merda...